Il giuramento di iniziazione, di cui oggi tratteremo, si articola in tre parti ed è amministrato dallo hierofante all'iniziato che lo ripete frase per frase. Le tre parti del giuramento possono essere sommariamente descritte così. La prima, una frase solenne esprimente il proposito che anima l'iniziato, un'attestazione della sua immutabile volontà e la solenne dichiarazione della sua realizzazione con la promessa di non rivelare nemmeno in parte il proposito realizzato, tranne nella misura in cui la sua vita quotidiana nel mondo degli uomini e il suo servizio all'umanità lo dimostrino. Ciò implica il giuramento di mantenere il segreto sulla parte del piano logoico veduta nella rivelazione della visione. Secondo, l'impegno profondamente solenne concernente il suo rapporto con i suoi altri sé, con la loggia di cui è membro e con il sé di tutti gli uomini. Ciò implica la sua disposizione verso i fratelli di qualsiasi grado ed include l'impegno a non rivelare mai la vera natura del sé come gli è stato mostrato durante l'iniziazione. Implica il giuramento di segretezza riguardo la conoscenza del rapporto esistente fra il logos solare e il logos planetario e fra il logos planetario del nostro schema e lo schema stesso. Terzo, la promessa solenne di non rivelare mai la conoscenza acquisita riguardo alle fonti di energia e di forza con cui è stato messo in contatto. Questo è un triplice giuramento di mantenere il completo silenzio sulla vera natura dell'energia, le leggi in base alle quali può essere usata e l'impegno ad impiegare la forza messa a disposizione con l'iniziazione solo per il servizio dell'umanità e per attuare i piani del logos planetario. Tale grande giuramento è formulato in termini diversi a seconda dell'iniziazione e come abbiamo detto costa di tre parti separate da un intervallo durante il quale il gruppo di iniziati che circonda il fratello appena ammesso svolge un certo cerimoniale. Possiamo osservare che ogni parte del giuramento si riferisce ad uno dei tre aspetti della manifestazione divina e mano mano che l'iniziato assume il proprio impegno, uno dei tre capi di dipartimento collabora con l'iniziatore nell'amministrare il giuramento e in tal modo si dispone di tre tipi di energia secondo le diverse parti del giuramento stesso. Alle prime due iniziazioni questa energia fluisce all'iniziato dai tre raggi maggiori tramite lo ierofante e il capo del dipartimento corrispondente attraverso il gruppo di iniziati del suo stesso grado ed ogni iniziazione quindi è un mezzo di stimolazione di espansione per tutti. Alle altre cinque iniziazioni l'energia fluisce attraverso i tre Buddha di attività anziché attraverso i capi dei dipartimenti. Durante questa parte della cerimonia il gruppo è immerso nel colore corrispondente all'energia e anche allo schema planetario da cui proviene ed è compito dell'iniziatore mettere l'iniziato in contatto con questa energia. Essa fluisce sul gruppo dal momento della sua segregazione ad opera dell'iniziatore che pronuncia certe parole ed alza la verga di potere. I tre Buddha di attività, i possenti centri di energia del nostro pianeta, ne toccano allora la punta con i bastoni cerimoniali e pronunciano una parola mistica. L'afflusso di energia ha inizio e continua fino al termine della cerimonia. Si potrebbe porre la domanda se nessun iniziato abbia mai infranto il giuramento. Molto raramente poiché si deve ricordare che nessuna iniziazione può essere conseguita senza aver raggiunto un certo stadio. Talvolta è accaduto ma poiché il signore del mondo conosce tutto ciò che avviene nel futuro, nel presente e nel passato, ad un iniziato non è mai data l'occasione di rivelare ciò che è celato. Può esservi l'intenzione ma non l'opportunità. L'iniziato che nell'intenzione pecchi in tal modo perderà la parola e talvolta anche la vita prima di cadere in fallo.